Continua serrata la campagna vaccinale in Campania. In pochi giorni più di 1500 persone fragili e over 60 si sono sottoposte al secondo richiamo negli hub vaccinali dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14. Una cifra che aumenta calcolando anche i vaccini somministrati dalle farmacie. Le vaccinazioni nelle farmacie di quartiere non si sono mai fermate neanche negli scorsi mesi in cui il covid sembrava aver concesso una piccola tregua. Negli ultimi giorni la vaccinazione è stata estesa anche a tutti coloro i quali hanno fatto soltanto due dosi di vaccino poi contratto il covid non hanno ricevuto il booster. Mentre i contagi restano stabili da due giorni aumentano le ospedalizzazioni stabili invece i posti letto occupati in terapia intensiva. Stamane alla fagianeria a Capodimonte tanti gli over 60 i soggetti fragili che erano in fila per il vaccino. Ai nostri microfoni la responsabile del lab vaccinale spiega quali sono i parametri obbligatori per sottoporsi alla quarta dose. Abbiamo una popolazione costituita ovviamente da ultra sessantenni ma anche soggetti di età dai 12 ai 60 anni che hanno condizioni di estrema fragilità e sono venuti qua per fare le quarte dosi. Non solo stiamo facendo quarte dosi ma anche tantissime terze dosi di persone ritardatarie che non si erano ancora sottoposte al primo booster. L'affluenza in questi tre giorni da quando è uscita la circolare ministeriale è consistente. Abbiamo eseguito più di 300 vaccinazioni tanto ieri che l'altro ieri il flusso però è molto ordinato. Ovviamente tutti coloro che vengono a richiedere il vaccino quello che abbiamo constatato è che sono fermamente convinti dell'importanza del richiamo.